Eh, proseguiamo, ma la vera attrazione è quella che centinaia di miei amici bambini ogni giorno vogliono visitare, è la taurosa botola dei prigionieri! Zucca strani, dammi una mano, una zappa almeno! Legno essere proprio come cervello di Barone Rozzo, marcio, oltre che polveroso, ah? Sì, è vero, i bambini non ci metteranno neanche per bagno! Sì, è vero, i bambini non ci metteranno! Sì, è vero, i bambini non ci metteranno!